cioè qui stiamo costruendo un qualcosa che essendo noi dei pionieri se tutto funziona è come i pionieri del Far West che li hanno creati all'America magari non è molto chiara la similitudine però diciamo c'è una potenzialità enorme qua volevo solo dire questo Fabri grazie riprendo un attimo al volo la parola per chiarire un aspetto il contratto di cui avete bisogno oggi è esclusivamente il contratto del vostro Metamask il contratto del DaoT non vi serve non vi serve importarlo su Metamask tra 5 minuti non vi serve a niente lo potete anche fare tra un mese tanto non vedrete niente quindi per non fare confusione perché mi stanno arrivando i messaggi dove prendo il contratto del DaoT l'ho appena detto non vi serve il contratto del DaoT vi serve il vostro contratto di Metamask che dovete mettere nella maschera quando fate la sottoscrizione del DaoT dove scrivete quanti ne volete prendere perché una volta che voi accettate la sottoscrizione non siete obbligati a prendere il 100% di DaoT potete prendere 10 dollari, 20 dollari, un dollaro quello che volete voi e da qui a un mese tutti i reward che arriveranno potete scegliere se sottoscriverci il DaoT oppure no quindi l'unico contratto che serve è il vostro contratto di Metamask il vostro indirizzo di Metamask che va messo nella maschera di sottoscrizione Grazie a tutti